Noi siamo al governo, siamo al governo e vanno d'accordo, vanno d'accordo con Salvini, ma non c'è niente di strano, perché io non l'ho mai conosciuto, l'ho conosciuto una volta scorsa lui, prima che diventasse quello che è diventato, e all'aeroporto sono arrivato, lui era molto timido, io arrivavo, ero già elevato io, non mi dite, non mi dite, io sono elevato, voi siete in massa, voi riuscite a fare appena a vivere, io esisto, e Salvini percepiva questa potenza che rimanava nel mio fisico sul suo, come un'alza superiore alla sua, e allora si è avvicinato, lo giuro, si è avvicinato, e allora io mi dico, il signor Grillo, si, ci abbiamo al telefono, lo potrete salutare? La mia maestra, il signore, perché non ha preso la pillola quei giorni? Perché questa è stata una particina, l'unico rapporto con voi, ma io ammiro quella personale invece, ve lo dico sinceramente, ammiro per la mia reale, l'etica della politica è la realtà, è quello che mi dicono la persona che dice una cosa e la mantiene, che è un miracolo oggi nella politica.